Sono 25.554 i nuovi casi di covid registrati in tutta Italia, di cui 1.281 in Sicilia nelle ultime 24 ore, stando al bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Nell'ultima settimana invece, in provincia di Caltanissetta, sono stati 454 i pazienti positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare. 169 sono di Gela, 167 di Caltanissetta, 42 di San Cataldo, 14 di Mussomeli, 13 di Santa Caterina, 9 di Niscemi, 8 di Sommatino, 5 di Vallelunga, 5 di Mazzarino, 5 di Delia, 4 di Montedoro, 4 di Serra di Falco, 3 di Butera, 2 di Campofranco, 2 di Riesi, 1 di Acquavive e 1 di Parianopoli. Ricoverati in degenza ordinaria 16 pazienti, 5 sono provenienti da fuori provincia, 4 di Gela, 2 di Caltanissetta, 1 da Villalba, 1 da Resuttano, 1 da Mazzarino, 1 da Marianopoli e 1 da Sommatino. Dimessi dalla degenza ordinaria 8 pazienti, 3 di Gela, 2 di Caltanissetta, 1 di San Cataldo, 1 di Resuttano e 1 di Serra di Falco. Deceduto un paziente di Serra di Falco positivo al SARS-CoV-2. Sono invece guariti 130 pazienti di Caltanissetta, 99 di Gela, 37 di San Cataldo, 18 di Mussomeli, 13 di Niscemi, 11 di Serra di Falco, 10 di Santa Caterina, 8 di Butera, 6 di Mazzarino, 4 di Delia, 4 di Milena, 4 di Vallelunga, 4 di Bonpensiere, 4 di Riesi, 3 di Montedoro, 2 di Acquaviva, 2 di Sommatino e 1 di Campofranco.